Hello everyone, come va? Spero tutto bene. Oggi sono qui con un piccolissimo video unboxing estremamente estremamente piccolo piccolo condensato dedicato a Dell'UvaTown, in particolare al quickstarter. Soggetto originale e direzione creativa Samuel Marolla, illustrazioni Sean Dickinson, game designer Nicola Scrudo e Enrico Fortunato Corno, testi Massimo Spiga, redazione e revisione Masa, grafica Carolina Fiandri. Cos'è questo gioco di ruolo? Questo gioco di ruolo che tra l'altro a luglio va in kickstarter, quindi veramente veramente spettacolare, subito prezzantissimi spettacolari, è un gioco di ruolo gangster basato sui cattori animati anni 30. E il fatto che sia abitato nei cattori animati anni 30 e con queste illustrazioni dovrebbe già dirvi qualcosa, perché Sean Dickinson non è una persona a caso, è la persona che ha realizzato le illustrazioni dei vari artwork di Caped. Occhio! Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha fatto, cioè una delle persone coinvolti in Caped, che è un gioco, un videogioco basato sui cattori animati anni 30, ha lavorato questo gioco di ruolo, che è un gioco di ruolo basato sui cattori animati anni 30. Io adoro troppo questa cosa e secondo me è spettacolare. Ora, è un manuale questo di 44 pagine, è appunto un kickstarter in vista della versione poi completa che verrà pubblicata. Cosa vorrei focalizzarmi appunto in questo piccolissimo unboxing, che tra l'altro sarà già stato troppo lungo la mia voce e avrà obbligato me stesso a rallentare il video che state vedendo sullo schermo. La cosa che è più interessante da questo punto di vista, secondo me, o d'appunto alle illustrazioni che sono estremamente caotiche e spettacolari, danno subito il sapore di quello che deve essere il gioco, è il sistema meccanico. Come dice il manuale stesso, è un sistema pensato per essere rule light, per essere con un regolamento estremamente leggero. Ora, il regolamento che vi viene qua proposto è molto leggero, probabilmente la versione finale sarà un po' più profonda, però in generale ha un elemento interessante, che è l'utilizzo di un mazzo di carte da poker. Per capirci è mazzo con le picche, con i fiori, con i cuori, stiamo parlando di quello, eh? Quello è proprio il mazzo che si utilizza. Perché questo? In base alla prova che vi viene proposta, voi pescate due carte e sommate i loro valori più determinate e modifiche aggiuntive per determinare qual è il vostro successo. Come dicono gli autori stessi, questo sistema è pensato per due motivi. Uno, aumenta tendenzialmente la probabilità di avere un successo e tra l'altro i vari personaggi hanno anche le loro probabilità e i loro metodi per guadagnare più probabilità di successo ulteriori. Secondo, perché è un gioco di ruolo estremamente narrativo. Cosa vuol dire? Quando voi dovete affrontare una prova, per esempio in un combattimento, lo scopo non è tanto quello di essere meccanicamente efficienti. Cioè non è come può essere un classico, il gioco di ruolo più famoso del mondo dove si tira on di venti, si sommano determinate caratteristiche, si fa tutto quanto meccanicamente. No. L'obiettivo qua è dare focus massimo alla narrazione. Vuol dire che, per esempio, potreste essere un cappuccino parlante, per esempio, che prende una pistola, dalla pistola esce un sassicciotto, nel sassicciotto inizia a ballare la... la tarantella. Mentre balla la tarantella, saltano fuori dei... delle... dei ragnetti che saltellano in giro, prendono il loro piro, scrivono palla di fuoco e le palle di fuoco scritte esplodono come se fosse una palla di fuoco vera. Questa sarebbe per dire una descrizione di un attacco a Nintendo di Helluva Town. Capite perfettamente che è un gioco di ruolo estremamente narrativo. Il fatto di essere estremamente narrativo, di essere anche ambientato nei cartoni animati anni 30, e il fatto di non prevedere la morte, perché occhio questo è un gioco di ruolo che non prevede la morte, cosa interessante, permette tutta una serie di interazioni strampalate che nessun altro gioco di ruolo potreste fare. Personalmente mi piace vedere questo gioco al Luba Town come se fosse un Brancalonia sotto steroidi, sempre prendendo i giochi della Acheron Games, come un Brancalonia sotto steroidi, quindi proprio un Brancalonia all'ennesima potenza dove qualsiasi idea che vi possa venire in mente, anche la più stupida, anche un cetriolo parlante che è un gangster lottatore di sumo che fa attacchi di jazz, sto sparando cose a caso per fare proprio degli esempi casualissimi, è proprio secondo me l'elemento interessante. Il Luba Town personalmente è un gioco di ruolo estremamente meritevole di attenzione. Questi sono i miei piccoli pensieri circa il Luba Town QuickStarter, vi ho appunto proposto il Luba Town, non ha senso secondo me indicare dei difetti o delle limitazioni in un QuickStarter perché non troverei elementi più importanti da tenere in considerazione, anche perché appunto parliamo di un prodotto che poteva cambiare nella versione finale, sappiate che probabilmente presto, presto, Luba Town arriverà su Kickstarter per la raccolta fondi e se già vi inserite nella wishlist e volete già supportare il progetto nelle se non sbaglio primi 3 giorni, avrete una spilletta dedicata a uno dei personaggi della copertina del manuale base, che è appunto questo. Io spero che questo video che è estremamente, spero che sia stato estremamente conciso, ti abbia incuriosito circa il Luba Town e spero che ne riparleremo in futuro perché ripeto, secondo me è Luba Town, vi consiglio davvero di tenerlo d'occhio perché non escludo che nei prossimi anni ne sentiremo parlare ancora, proprio per il fatto di essere con questo regolamento estremamente leggero, estremamente caotico ed estremamente libero, secondo me potrebbe davvero diventare un eccellente gioco di ruolo. Tenetelo davvero in considerazione perché, davvero, secondo me, merita la vostra attenzione. Spero che questo piccolo video vi abbia incuriosito, sono GbSlacko di Gamescore.it che tratta news e recensioni di videogiochi, giochi a tavola dove è perfetto che trattiamo un sacco di cose. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo, lasciami un mi piace e condivido sui canali social preferiti. E noi due, ci vediamo alla prossima occasione. Stami bene. Ciao ciao! 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 Ciao!